Il mio nome è Giuseppe Cali, sono di Nicosia e faccio parte di un comitato nato spontaneamente che si chiama Comitato Inizio da Sviluppo. Come vi dicevo, noi siamo trovati in una situazione devastante, in un incubo, in cui siamo stati soggiogati da un potere più forte di noi. Improvvisamente dal nulla su di noi è scesa questa spasa di Damocle, questa intenzione di costruzione di un hub militare di addestramento con armi pesanti da fuoco. Già sentire così queste parole sembrano dure, ma la verità è che la follia di questo piano prevedeva il bombardamento di una iserva naturale, di una chiesa dedicata a Santa Venera, senza il consenso delle popolazioni, con un progetto nato alle spalle dei cittadini, con un progetto che ancora una volta, seguendo le dinamiche descritte in precedenza da Fulvio e dagli altri onorevoli interlocutori, che ci hanno evidenziato come è classica questa manovra dall'alto in cui si vuole imporre senza il consenso una visione, magari mistificando una realtà che palesemente si dimostra differente. Tutto è nato a inizio maggio, così dal nulla ci siamo trovati di fronte a dei generali che accompagnati dai tre sindaci della nostra comunità applaudivano un progetto che apparentemente sembrava folle, ma che realmente sembrava indistruttibile, non soggetto a possibile cambiamento, un progetto che ci ha messo spalle al muro. Subito con i cittadini dal basso abbiamo cercato di sensibilizzare la platea dei cittadini di Cosia, di Gangi, di Sperlinga e in questa sensibilizzazione inizialmente abbiamo incontrato una dura resistenza perché la mistificazione che viene dall'alto molto spesso è invincibile. Quello che è stato detto è che questi militari avrebbero portato benessere, soldi, un nuovo sviluppo, uno sviluppo con le bombe, uno sviluppo con le bombe su una riserva naturale. È chiaro che questo disegno è quantomeno discutibile, però era difficile fare presa sulla popolazione. Improvvisamente però e in poco tempo questa popolazione ha preso consapevolezza dell'iniquità di questa idea, dell'iniquità di questo progetto, della impossibilità di conciliare questo progetto di distruzione con uno sviluppo del territorio ecosostenibile. Quindi improvvisamente questa onda è diventata uno tsunami, uno tsunami che è riuscito a fermare questo progetto. Ora, ci siamo interrogati per capire come questo possa essere avvenuto, come siamo riusciti a vincere questa battaglia. Sono diverse le interpretazioni. Io di sicuro posso dire che come è descritto in precedenza, in genere questi meccanismi vengono da lontano, vengono dall'alto, vengono dalla geopolitica, da organismi transnazionali che hanno intenzioni che non possono coincidere con i nostri interessi, con le nostre volontà, con la nostra missione di rendere il nostro territorio migliore. Dall'altro lato abbiamo scoperto come sia invincibile una forza che dal basso, raccontando ciò che è più vicino al cuore del cittadino, riesce a dimostrare ai propri simili, a coloro i quali come noi vivo la nostra realtà, che è possibile uno sviluppo alternativo. Io sono stato in questa battaglia con tanti ragazzi, ci siamo mobilitati in un comitato spontaneo, ma anche altre associazioni si sono unite e devo dire che anche la politica in questo senso ci ha ascoltato. Di fronte a un consenso crescente che ha minato le basi di questo progetto, tutti quanti ci siamo uniti e siamo riusciti a raggiungere questo obiettivo. Questo obiettivo però non è un obiettivo slegato da un lato da progetti transnazionali e dall'altro non è un obiettivo che si è definitivamente abbandonato, perché come da noi chiarito in parecchie sedi, l'intenzione di portare avanti questo progetto in Sicilia non è terminato. Ad Agrigento, a Punta Bianca, in Sardegna, a Teulada esistono dei campi di addestramento militare che detto così può sembrare quasi una cosa positiva, si addestrano per difendersi, ma non è vero. Questi campi di addestramento con armi pesanti non fanno altro che distruggere un territorio. La guerra portata a casa nostra come inevitabile, come ineluttabile conseguenza di un processo di materializzazione di tutto e di tutti. Basterebbe semplicemente guardare queste esperienze, le esperienze di Punta Bianca, l'esperienza di Teulada, per rendersi conto che non è uno sviluppo sostenibile. Quelle aree, aree naturalistiche perfette, incontaminate, ora sono aree distrutte. L'economia che potenzialmente poteva sorgere, poteva crescere in queste aree è stata distrutta. L'economia in questione non esiste più in questi luoghi. Le esternalità negative non solo in termini di rumori, di salute, ma in termini anche di ecosistema sono di fatto, una volta avviate, inevitabili. Si è visto in Sardegna, grazie appunto anche a giudici che unici tra gli altri, pochi sono in realtà, come diceva bene Fulvio, i giudici che riescono ad avere il coraggio di affrontare un potere costituito, che non è un potere costituito nazionale, ma transnazionale, e mettersi contro questo potere molto spesso è decisivo e fa finire le carriere di questi giudici. Quindi dicevo, grazie anche a molte persone, a molti giudici giornalisti, è stato chiaro a tutti quella che è la verità. Questi campi di addestramento non fanno altro che distruggere la salute, l'ecosistema, l'ambiente. E abbiamo visto, con dati scientifici alla mano, la mortalità aumentare di oltre il 100% dopo 15 anni a Teulada. Abbiamo visto animali morire, malformazioni, abbiamo visto un'economia sparire. Di sicuro mi rendo conto che c'è la necessità di difendersi, ma difendersi distruggendo la propria natura, il proprio benessere. La propria salute non può essere la via da percorrere. Volevo anche fare una riflessione con voi. Ieri e anche oggi ho avuto l'opportunità e la fortuna di ascoltare delle grandi menti che hanno evidenziato come i problemi che ci riguardano non sono problemi nuovi. Vi scendono dal passato, sono problemi che non riguardano i massimi sistemi, ma riguardano anche nel dettaglio il singolo cittadino. La mancata consapevolezza che i processi internazionali hanno degli influssi anche su di noi, nel piccolo, ci rende sempre più soggetti al potere. Al potere che ha mezzi, modi, modalità per sviarci, per mistificare, per farci apprendere una realtà diversa da quella reale. Quello che è stato detto a noi è che questo hub avrebbe portato ricchezza, avrebbe ripopolato i nostri territori, ci avrebbe permesso di ricominciare a vivere in un'economia sostenibile. La verità è un'altra. La verità è che le zone interessate da questi hub non hanno economia. La verità è che, guarda caso, nei giorni in cui noi facciamo questa battaglia per evidenziare comunque sia che l'economia è sì un valore, ma non può prescindere dalla salute, ci è venuto in aiuto l'Irona Sarda, che ha pubblicato un articolo in cui raccontava di Teulada, dove a detta del titolista i militari non comprano neanche un panino. E questa è la verità. Quello che è stato fatto è cercare di mistificare la realtà de quo, facendoci credere qualcosa che non era vero, facendoci rinunciare alla nostra salute semplicemente in cambio di un piccolo tornaconto economico. E questa non può essere la via di uno sviluppo sostenibile. io sono molto felice di aver ascoltato persone come Fulvio che per anni, per decenni, hanno combattuto delle battaglie. E lui, Fulvio, deve essere un esempio in questo senso per me. La cosa che più mi ha colpito in senso negativo è la totale indifferenza della politica e dei media di fronte a una situazione in cui il popolo chiaramente si sentiva vessato, si sentiva ignorato, si sentiva spiazzato da un piano nel quale non era stato incluso. Vi confido che all'inizio della battaglia io non ritenevo possibile nel breve una vittoria. Il fatto che io sia stato sorpreso dagli eventi è una cosa sì bella, ma è una cosa che deve anche essere spiegata e capita, altrimenti non si riesce ad aggiungere, a replicare, non si può arrivare a replicare questa battaglia, questa piccola battaglia vinta anche altrove, magari in battaglie più importanti e in guerre più importanti. Quello che è avvenuto a mio avviso è che noi cittadini siamo riusciti a sensibilizzare su questo aspetto prevalentemente in virtù del fatto che le istanze che noi portavamo avanti erano direttamente collegate al cuore dei soggetti a cui parlavamo. Molto spesso quando giornalisti inviati di guerra ci raccontano delle morti in Iraq, a Baghdad, nella Libia, in Siria, purtroppo siamo soggetti a vedere queste stesse battaglie come battaglie lontane, che ci riguardano solo in piccola parte, in realtà non è vero, come abbiamo visto queste battaglie ci riguardano e come. Il fatto che vi ho appena raccontato di questo progetto che è naufragato non vuol dire che noi siamo al riparo, perché come diceva bene Fulvio, questa idea di militarizzazione è un'idea che è ancora presente e che sicuramente verrà portata avanti, è quello che dobbiamo fare noi, a mio avviso, è difendere la nostra terra. Questo è il primo passo per applicare in concreto le grandi teorie e lucubrazioni che noi abbiamo sentito in questi giorni, perché se noi ci dovessimo limitare unicamente a cercare di ricostruire le basi filosofiche o storiche degli eventi a cui siamo soggetti, ignorando nel particolare le singole realtà dove questo male si dipana e allora abbiamo fatto una battaglia inutile. Non riusciamo ad arrivare all'obiettivo, dobbiamo arrivare al cuore delle persone per risvegliare queste sensibilità e lo possiamo fare unicamente affrontando temi vicini al cuore dei cittadini. Noi lo abbiamo fatto, forse a livello inconscio, non eravamo consapevoli di quello che stavamo facendo, ma vi assicuro che i politici nelle mie zone hanno capito perfettamente quello che stava succedendo. Il terrore era visibile nei loro occhi, tant'è che tutti e tre i sindaci hanno annullato in tutela, prima ancora che iniziasse il procedimento amministrativo, questo schema d'accordo di collaborazione. Io non volevo rubarvi troppo tempo, però devo dirvi e sento di dovervi dire che questa battaglia a mio avviso non è terminata, questa battaglia è appena iniziata. Credere che la battaglia in questione sia già finita vuol dire dare ancora margine a questi soggetti per andare avanti e distruggere quel poco che ci rimane. io mi sento in dovere di aiutare tutte le popolazioni siciliane e sensibilizzarle nella misura in cui noi abbiamo avuto una consapevolezza diretta di quello che si vuole creare e devo anche dare atto ad alcuni componenti come anche la politica delle nostre zone che è riuscita a percepire il mutato sentimento della popolazione, perché a mio avviso la sensibilizzazione che deve partire dal basso non può prescindere da una traduzione in azione politica, perché altrimenti rimaniamo fermi in un nucleo individuale e non riusciamo a porre in essere le giuste azioni per fermare progetti di questa tipologia. Io non vorrei rubarvi oltre tempo, perché so che c'è l'esigno per gli interi. Volevo semplicemente dirvi che in questo caso noi siamo stati abbandonati dai media. L'unico media che ci ha seguito e ci ha supportato all'interno dell'area dei media indipendenti è stato mi più di Eugenio Miccoli, che ci ha supportato in questo senso. Ed è importante creare una struttura vasta di supporto ai cittadini, che vada dalla politica ai media indipendenti alla politica reale, affinché si dimostri che è possibile avere uno sviluppo alternativo. È inaccettabile permettere a entità del genere di decidere della vita dei cittadini senza il loro consenso, senza che siano stati informati. Non è accettabile che le mistificazioni a cui noi siamo stati soggetti siano viste in un ambito di normalità. È normale che il generale scende dall'alto e ci dice no, fate così, fate colà. No, è giusto che il cittadino ritorni a essere parte integrante di quel processo che è la politica, cosa che attualmente non avviene. Grazie. Grazie. Grazie.